Giorno numero 21 dello spaccettiamo insieme il calendario dell'avvento che mi ha regalato la mia amica Heidi Come al solito la trovate taggata qui, come al solito lasciate un cuoricino e mettete un più, ok? Allora, anche oggi siamo qui con questo nuovo regalino Oggi è stata una giornata pesantissima, sono appena tornata infatti dalla palestra E ancora non mi faccio porre neanche la doccia, cioè proprio mi sono fiondata ad aprire il pacchetto Allora, una cosa sicuramente morbida Sembra un po' a punta Ditemi sempre nei commenti se avete già capito che cos'è Io vado a spacchettare Allora, vi raccomando, seguitemi se volete vedere video fino a Natale Perché ce l'abbiamo fino al 25 E poi ci saranno naturalmente altri video Allora, era quello che pensavo Vi leggo il biglietto C'è un peperone giallo bellissimo Allora, dice, se ce la faccio Io sarò lì vicino a te per toglierti gli incubi Eccolo qua E è uno gnomo Guardate che bello È bellissimo Io ne ho anche altri, adesso lo metto insieme agli altri Io li adoro gli gnomi Sono proprio belli morbidi Poi questo bianco ce l'ho rosso Poi c'è uno, sì, anche il bianco e il grigio Belli belli, mi piacciono tantissimo Allora, noi ci vediamo domani con un nuovo video Grazie Heidi Io vi mando un bacio Ciao